bene amici ma buongiorno approfitto di questa gita di un paio di giorni tra il veronese lago di garda e mantova per provare questi tre smartphone ho dormito in una casa sull'albero che adesso vi racconto così da vedere come girano i video lo xiaomi 14 ultra iphone 15 pro max e s24 ultra ma vi faccio vedere lo spettacolo di questa casa con questo albero in mezzo se vi faccio vedere sotto lì c'è proprio la stanza che ha barbicata 5 metri d'altezza e è stato recuperato quello che era un vecchio edificio di una stazione ed ha direttamente sul mincio posto veramente bello ma adesso proviamo la stabilizzazione scendendo le scale aiuto sì un po pericolose spero di non uccidermi anche perché sono particolarmente bagnate e vicine questa era ce l'ho fatta se ne salvo la 1 per adesso metto il grandangolo entriamo e dentro la genialata ovvero l'aver incapsulato l'albero in questi quattro vetri molto molto carino qui c'è il letto matrimoniale che da direttamente su una bellissima vasca e doccia che abbiamo utilizzato funziona veramente bene bellissime le finestre che danno direttamente sul passaggio di quella che era l'ex ferrovia e da questa parte c'è un terrazzino qua dormito gabriele quindi un divano letto molto molto carino anche lui ma la cosa spettacolare questa che ha goduto gabriele di questa vista perché vi faccio vedere in quadratura pov se lui si sdrea qua guardate alla vista dell'albero direttamente qua che spettacolo l'hai forse un po spostato che l'ho messo a posto dal letto bellissimo chiudo le tende così vediamo come girano i video con poca luce ok questa è la 1 per con pochissima luce così vediamo come si comporta neanche con mette a fuoco e magari proviamo anche con lo zoom sto usando la 5 per su tutti e sto inquadrando la tenda adesso facciamo un veloce cambio di luce voilà aprendo e questo è il risultato e anche la velocità di messo a fuoco e un'idea su come girano i video ce la siamo fatta voglio essere analitico in questa comparativa voglio dare i voti allora do un 9 ai video girati con iphone per il bocchè molto spinto molto bello e anche per come gira i video quando c'è poca luce il migliore do un 8 e mezzo s24 ultra anche lui buon dettaglio un po meno bene quando cala la luce ma comunque ottimi video do invece un 8 meno allo xiaomi per il fatto che quando c'è stato un calo di luce e una differenza luce ci ha messo un po più ad adeguarsi ma non è tanto questo quanto il fatto che il frame rate è diminuito è un po a essere scattoso nel pan ma adesso parliamo di foto stesso approccio quindi sarò analitico ho fatto una serie di foto tra mantova e lago di garda a ogni foto un commento ovviamente soggetti diversi situazioni diverse e un voto partiamo dalla piazza di palazzo ducale di mantova bellissima con questa foto grande angolare qua croppata al 100 per cento così da andare a individuare gli eventuali difetti e il voto più alto se lo becca all s24 perché è il più dettagliato guardate anche la croce rispetto alle altre due fotografie poi viene iphone con un 8 equilibrato ma un filo meno dettagliato di s24 si vede appunto la sulla croce e poi xiaomi 7 per questa ragione vi riporto la fotografia al 100 per cento su tutti e tre i device e vedete è una foto dove c'è un po più di luminosità al centro rispetto al perimetro della lente mentre luminosità su iphone e su s24 ultra come è più uniforme ecco per quello si prende 7 seconda foto zoom 10 per sulla croce anche qua ve la metto al 100 per cento così da vedere i dettagli perché ovviamente lo schermo non contiene tutti i megapixel delle fotocamere e anche qua vedete ci sono delle differenze 7 xiaomi che rimane sempre un po poco dettagliato guardate le qua i dettagli di queste parti in ferro della croce ma anche i dettagli di queste statue come sono un pochino impastati 7 9 invece s24 ultra perché i dettagli sono veramente molto affilati 8 buon dettaglio e buoni i particolari sull'iphone e poi una grandangolare su questa stanza di palazzo ducale andate a vederlo se non l'avete visto è bellissimo scattata con la grandangolare anche qua vi faccio vedere adesso l'immagine così che sembra veramente uguale su tutti e tre gli smartphone se vado al 100 per cento ma soprattutto se vado in questa zona scura possiamo vedere come ci siano delle differenze guardate questa crepa questa crepa qua e la parte qua a destra e vi dico subito che si è preso un 7 iphone perché la crepa ma soprattutto qua la parte scura è un filo più granulosa più impastata rispetto agli altri due telefoni dove si è preso un 8 lo xiaomi perché ha un buon dettaglio questa crepa si vede molto meglio ma anche guardate questo questo dipinto adesso non so cosa sia ma è molto più dettagliato rispetto agli altri due e si perde un po' nella parte scura vedete qua sembra una macchia nera mentre qua guardate s24 prende 8 e mezzo perché è il più equilibrato magari meno dettagliato di xiaomi ma qua nella parte scura comunque ci fa vedere il dipinto ma ce lo fa vedere meglio rispetto ad iphone che ha proprio quella granulosità quasi da pellicola e questa è una foto difficile perché era una scultura un busto illuminato da un faretto quindi tanti chiaro scuri e po' troppo tendente al rosso il xiaomi 14 ultra vedete i colori più giusti ce l'ha ls24 ultra mentre un po' troppo tendente al caldo iphone questa è una tendenza generale quindi quella del rosso su xiaomi e quella del caldo su iphone che viene invece equilibrata su s24 metto tutti e tre lo stesso zoom da premettere che sto valutando le foto punta e scatta poi parleremo dei settaggi manuali del raw ma qua è jpeg punta e scatta quindi ho fatto fare tutto al software del telefono così da valutare anche quelli e su questo busto si prende un bel 9s24 guardate il dettaglio sotto al naso di quest'ombra c'è qua una smorfia incredibile le sculture dell'epoca con questa ruga che qua si vede molto bene e oltre ai colori qua sullo xiaomi quella smorfia quella diciamo ruga si vede decisamente molto meno e si vede poco anche su iphone vedete quindi iphone si prende 8 e mezzo perché ha buoni colori un buon dettaglio non come il 9 ds24 mentre si becca il 7 lo xiaomi foto generalista all'aperto vi dico subito i voti 9 allo xiaomi buoni sia i colori sia il dettaglio 7 e mezzo s24 ultra perché troppo hdr ma soprattutto guardate il muschio che ce l'ha sull'albero sembra flash cioè non era di quel colore fluo mentre 9 a iphone perché anche lui è molto equilibrato nei colori adesso ho valutato l'hdr con questa foto fatta dall'interno della casa sull'albero all'albero quindi con tanta luce che proveniva dal cielo 6 allo xiaomi perché troppo hdr cioè l'occhio non è che vedeva perfettamente sia l'esterno sia il tronco guardate qua come è tutto troppo cioè vedo troppo di tutto in realtà ho dato 6 anche all's24 per il motivo opposto perché qua il tronco praticamente non lo vedo è una macchia nera ok vedo i dettagli in alto ma il più equilibrato che si becca un bellotto perché ha la giusta dose di hdr è iphone perché mi fa vedere il tronco che era in ombra ed è giusto era proprio così l'occhio vedeva così ma mi fa vedere anche il fuori anche il dettaglio la della lampada insomma hdr gestito meglio su iphone e poi gita al lago zoom 15 per su questo animale cos'è un anatra una papera vabbè non lo so e anche qua ci sono delle differenze voto 7 allo xiaomi perché un po sgrana ed è un filo scura meglio la luminosità su s24 7 e mezzo però anche qua un po sgrana i colori però sono più reali mentre iphone si prende un 6 perché è tanto sgranata segno che la 5 per di iphone non ha una qualità eccezionale in queste condizioni vedete si vede molto di più lo zoom digitale macro sul tulipano e qua ci sono tante differenze guardate quella di iphone bruttarella perché non è netta non ha i contorni del fiore belli contrastati ok bene i colori ma voto 6 invece incredibile quella di s24 voto 9 ve la faccio vedere anche al 100% perché il dettaglio dei contorni di questi petali tra l'altro ho scelto di fotografare un tulipano rosso e non quelli gialli che c'erano di fianco perché il rosso è il colore più critico per i sensori e devo dire che anche xiaomi si è comportato bene 8 e mezzo colori perfetti fuoco abbastanza bene ottimo bocchè ma andiamo al ritratto fatto in tre per per andare ad accentuare l'effetto di sfocato dello sfondo anche qua tante differenze prima di tutto iphone ha usato la 1 per croppata avendo la 5 per zoom per fare questo questa foto e si vede decisamente vi metto anche qua il 100% guardate che brutto dettaglio la marca degli occhiali non si vede i miei peli della barba non si vedono benissimo guardate invece che bomba s24 ultra è incredibile il dettaglio i granelli di polvere sugli occhiali la scritta perfetta ma guardate anche qua attorno alle orecchie questa peluria è dettagliata cioè si vede benissimo guardate invece lo xiaomi che ha comunque un ottimo dettaglio ma quella peluria se la perde bene i colori su tutti e tre ma quello che i colori migliori e s24 ultra sono proprio reali un po pallidonzi quelli di xiaomi mentre qua si perde un po tutto e i colori tendono sempre al calduccio quindi voti otto e mezzo xiaomi nove e mezzo s24 quasi perfetta mentre sei iphone foto in notturna questa è la zoom 5 per e qua ci sono tante differenze s24 ultra è stato l'unico a entrare in modalità notturna con un'apertura durata due secondi e si vede il micro mosso insomma non ha convinto ovviamente lo scatto è stato fatto nello stesso momento stessa luce gli altri due invece non hanno scattato una foto notturna ma comunque micro mosso anche sullo xiaomi invece perfetta sia per dettaglio guardate nelle foto sia sia per colori sia per zero grana ma guardate anche qua sotto i riflessi che si vedono dove iphone ha scattato mentre su s24 ultra tutto buio si vedono un po i riflessi sullo xiaomi ma nel complesso iphone vince tant'è che si becca un bel sette e mezzo cinque galaxy e sei xiaomi ultima foto quella con la uno per generalista sempre di notte e anche qua ci sono tante differenze guardate lo xiaomi che colori sbagliati cioè l'erba non è così fosforescente il selciato non è marroncino ma è più grigio come nelle altre foto dove i colori sono corretti qua veramente troppa troppa preponderanza di rosso nella correzione software post scatto si becca sei otto e mezzo s24 ultra colori ottimi buon dettaglio nulla di impastato e otto iphone perché ha un filo meno dettaglio i colori però sono comunque ottimi ora ho fatto la somma dei voti che ho dato a tutte queste foto e come vedete non c'è una preponderanza di un telefono rispetto all'altro o meglio sì in generale e vince su tutti s24 ultra ma ogni telefono alla sua specificità quindi 80 punti allo xiaomi che quello che arriva ultimo tra questi tre 88 punti a s24 e 82 punti ad iphone le cose però cambiano se parliamo di fotografia manuale e scatto in raw perché laica questo giro ha veramente aiutato gli ingegneri di xiaomi a introdurre una tecnologia che è da sempre presente sulle mirrorless sulle fotocamere professionali che è quella del diaframma regolabile qualche brand nel passato aveva fatto questa scelta ma solo su due step cioè diaframma un po più chiuso o un po più aperto qua tra l'1.64 e il 4 sulla campo principale possiamo decidere tutti i diaframmi intermedi questo può regolare sia la luce che entra dentro dall'ottica ma soprattutto la profondità di campo cioè quanto a fuoco deve essere il soggetto rispetto allo sfondo e questo fa tutta la differenza del mondo per i fotografi professionisti che si divertono proprio a giocare con queste cose e cambia tanto per esempio adesso f.4 se metto qua vicino a buzz lo sfondo lo vedo sì bocché ma non così bocché invece se io chiudo tutto il diaframma f1.3 cioè sulla te lo apro tutto ho lui a fuoco e lo sfondo molto più sfocato questo vuol dire che se anche ho dei soggetti magari vicini posso giocare con averle fuoco tutti e due o aver tanto sfocati tutti e due e questo libera la creatività su tutto e questo è un ragionamento generale vale che se uno è bravo a scegliere luci giuste scegliere l'inquadratura giusta la composizione l'attimo perfetto fa delle bellissime foto anche con telefoni da 200 euro perché secondo me vince il fotografo non vince tanto lo strumento ovvio che un buon fotografo con un ottimo strumento riesce a tirar fuori degli scatti interessanti e il manuale su questi telefoni top di gamma secondo me ha tanto senso e da questo punto di vista vince lo Xiaomi proprio per questa regolazione questo settaggio poi ci sono tante altre regolazioni interessanti però questa forse è quella che fa la differenza perché altre regolazioni ci sono anche più o meno su tutti gli altri telefoni perché iPhone da un punto di vista manuale consente veramente pochino 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 è vero che ha il raw max dove si va a comprimere praticamente a zero la fotografia ma anche qua abbiamo la possibilità di avere un super raw quindi una fotografia che poi va trattata in post produzione con i vari light un po di photoshop eccetera eccetera ma che dà la possibilità di trattarla in maniera importante iPhone da pochi strumenti a chi fotografa ci sono applicazioni terze parti che danno questi strumenti vai sempre lì devi scaricare l'app e poi secondo me l'app proprietaria lavora sempre meglio con la camera proprietaria anche se ovviamente le applicazioni terze parti accenno direttamente ai dati della fotocamera tramite API ma diciamo che consente meno smanettamenti manuali una via di mezzo è quella di Galaxy che ha questa expert raw che è una modalità che ci permette anche qua di andare a settare tanti parametri ma non tantissimi come sullo Xiaomi. Conclusioni ho qua il mio bigino primo Xiaomi sul raw manuale per i motivi che dice prima secondo l'S24 terzo iPhone perché ha molte meno azioni e molte più limitazioni e allora andiamo alle conclusioni qual è il miglior camera phone dipende non c'è una risposta univoca lo Xiaomi è il più fotografico pro anche per il kit di impugnatura che si può mettere che anche il power bank e di lenti aggiuntive che si possono aggiungere tipo i filtri ND o altre cose qua alla ghiera proprio con il kit fotografico iPhone è il più facile dove più o meno viene bene sempre tutto e rimane il migliore per i video per questo che io uso gli iPhone per fare praticamente tutti i video che faccio perché è semplice perché quando giri difficilmente sbaglia il fuoco perché la stabilizzazione è ottima perché anche con poca luce tira fuori dei bei video il Samsung è ottima via di mezzo tra i due da menzionarne i top camera phone anche Honor Magic 6 che non è in questa comparativa perché ha il software un po' più bruttino ma soprattutto non fa il raw né nel grand'angolo né nella camera zoom secondo me per un top camera phone quasi imperdonabile anche se bisogna capire chi utilizza poi i raw per andare a modificare foto secondo me è uno zero virgola ma qua stiamo parlando di top camera phone e poi il pixel 8 pro che se la sarebbe giocata lo adoro ma è un po' meno pop rispetto a questi telefoni non ho inserito quei telefoni come Oppo vivo non inventa Italia perché non ha senso poi alla fine comprarli visto che ci sono alternative comunque come queste scattano ottime foto per quanto riguarda il prezzo loro più o meno se la giocano e su quale comprare entrano secondo me in ballo anche fattori diversi tipo sistema operativo se dobbiamo lavorare con i social se dobbiamo fare il creator e dobbiamo fare tutto dello smartphone secondo me iPhone è quello che mantiene un equilibrio migliore tra qualità pro delle applicazioni e qualità dell'immagine se siamo molto focalizzati sulla fotocamera e ci piace giocare coi parametri manuali secondo me lo Xiaomi è il migliore dal punto di vista Android però l'equilibrio migliore anche perché qua entra in gioco la warnesi centri assistenza il software e anche la penna forse S24 Ultra è quello che è più a fuoco spero con questo video di avervi aiutato a scegliere il top camera phone e per tutti i commenti ci vediamo qua sotto ciao ciao